I dubbi ne ho due, ne ho due, aspetto la rifinitura e poi deciderò, però lo sappiamo, lo avvertiamo quando vai a prendere un caffè o quando fai colazione, comunque al bar ti ricordano che c'è il derby con il Siena, quindi si vive una bella atmosfera, l'attesa giusta, per un allenatore è anche più semplice riuscire a preparare partiti del genere. Ma in genere è un allenatore che nelle ultime due stagioni, sia a Como che a Renate e nelle prime due gare di campionato ha utilizzato il 5-3-2, ha due attaccanti con caratteristiche un po' diverse, uno molto dinamico che attacca a profondità, grandi colpi, grande corsa, come Marotta, Mendicino, non lo sto qui a descrivere perché lo conoscete già abbastanza bene, una difesa molto strutturata e quindi mi aspetto una squadra che possa giocare una partita magari più di attesa, ad aspettarci per poi poterci colpire in contropiede o strada facendo. Credo che domani dovremo essere particolarmente bravi ad avere equilibrio durante tutto l'arco della gara, non farsi prendere da eccessi, da fuga che potrebbe solo ed esclusivamente portare a situazioni negative. Noi dobbiamo essere lì, dei martelli costanti perché poi dopo alla fine quello che conta è essere avanti quando l'arbitro fischierà alla fine.